Sembra che il sindaco di Riva Mosaner voglia rendere difficile la vita ai nuovi proprietari dell'area ex Cattoi. Nel corso della riunione di maggioranza che si è tenuta qualche giorno fa, il primo cittadino ha ribadito che non intende portare la discussione in aula prima che scada il piano attuativo dei terreni di Viale Rovereto, non prima quindi del 24 marzo, data che segna la fine del piano votato dal Consiglio Comunale dieci anni fa, quindi nel 2007. Ad oggi non è ancora stato formalizzato il passaggio alla VR 10-12-14 SRL, la società partecipata al 15% dall'Arcense Consolida e dall'85% dalla Vinco Energreen del commercialista Heinz Hager. L'accordata si è aggiudicata ai terreni di Viale Rovereto all'asta per un importo di circa 5 milioni di euro, ma il piano di comparto sull'area ex Cattoi presentato in Comune a Riva e negli uffici della comunità di Valle presenta le firme dei curatori fallimentari della LACOS e solo a margine quella di Heinz Hager, insomma una questione della quale parleremo ancora per parecchi mesi.